A Napoli il presidente Lanci De Caro ha lanciato un appello al governo affinché nella preparazione della manovra ha detto non metta le tasche nelle mani dei sindaci. Sarebbe il primo governo che non lo fa, speriamo. Sinora i segnali non mi sembrano molto incoraggianti, non vedo manovre di sostegno, però dobbiamo dare tempo al governo di agire in questi giorni. Noi sosterremo le azioni che il governo vorrà mettere in campo, il Parlamento, in favore dei cittadini perché non tagliare ai comuni o stare vicino ai comuni significa sostenere gli italiani, sostenere i servizi, i diritti, le esigenze e quindi migliorare la qualità della vita e creare lavoro. Se invece massacri i territori, i luoghi in cui vivono le persone e quindi non consenti a chi le amministra di garantire servizi, diventa più difficile investire, diventa più difficile creare sviluppo.